Lo start, via l'uomini a posto dietro, ci siamo, partiti. Davanti Elusive per Nilla che ha superato Happy Dream e Ponza. All'esterno Lord Vincent, con Lord Vincent che va su Elusive e passa. Poi Ponza che rimane di fuori ad Happy Dream e precede King Winnie in coda Drive Me Home con di fuori aeree di qualità. All'esterno Lord Vincent, Elusive per Nilla, King Winnie, i tre precedono il terzetto botti, capeggiato all'interno da Happy Dream con vicino Ponza e aeree di qualità. Lord Vincent, Elusive, terza corsia per King Winnie, dietro ai tre sempre Happy Dream e Ponza e aeree di qualità in coda Drive Me Home. Elusive attacca e passa la soluzione di forza traguardo lontano per Elusive per Nilla, rincorso da Ponza, da Happy Dream e poi da il tentativo di aeree di qualità con Elusive in seguita da Ponza. Poi Happy Dream di fuori a tutti, prova aeree di qualità con Ponza che si proietta su Elusive per Nilla, poi aeree di qualità con Ponza che attacca e passa su Elusive per Nilla. Aeree di fuori aeree di qualità con sempre Ponza in vantaggio in seguita da aeree di qualità e poi Elusive per Nilla. Nel finale Ponza all'interno si allontana nel Goldoni, il quinto favorito a traguardo per il secondo e terzo aeree di qualità. batte Elusive per Nilla, doveva essere Ponza e Ponza è stata, doveva essere aeree di qualità seconda e seconda è stata, pronostico rispettato in pieno. Terzo Elusive per Nilla per un Goldoni. Tutto rosa, 2, 5, 4, Silvano Mula.